Musica 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 Qui répersonnaise Dans ce sens je supporte Bastia contre PSG Ok disons Musica Come dice Jean-Louis, essere blu, è essere passionato. Ci sono alcuni che possono venire al Stato di supportare. Quando guardiamo tutte queste immagini, vediamo a quello che si sembrava, che è stato il Sporting Club di Vasserva, che è quello che è il Sporting Club di Vasserva, che è quello che si rappresenta il popolo corso. C'è una identità. E io direi che siamo tutti marati al ferro bleo.